Nella prima sessione di luglio 2023 il Consiglio Provinciale ha approvato tre disegni di legge, due presentati dalla Giunta Provinciale. Il primo riguarda la gestione coordinata dei siti ed elementi oggetto di riconoscimenti UNESCO in provincia di Bolzano. Questa legge non intende solo definire il quadro normativo per una gestione efficiente e coordinata del patrimonio naturale, culturale e immateriale e degli altri siti o elementi oggetto di riconoscimenti dell'UNESCO nel territorio della provincia, ma garantire anche eventuali progetti di nuove candidature nell'ambito delle convenzioni e dei programmi UNESCO al fine di assicurarne la trasmissione alle generazioni future. Il secondo disegno di legge riguarda la nuova legge provinciale sui beni culturali che prevede disposizioni attualizzate per la gestione dei beni culturali materiali mobili e immobili, la loro conservazione e la tutela e la cura dei monumenti. Il terzo disegno di legge approvato riguarda l'ordinamento delle aree sciabili attrezzate. Le nuove regole intendono aumentare la sicurezza nei comprensori sciistici, sulle piste da fondo e quelle da slittino. Approvata anche una mozione presentata dalla Lega Salvini-Alto Adige-Suttirol che propone un pacchetto di misure contro la violenza giovanile. Sono state approvate anche tre mozioni delle opposizioni. Quella presentata da Enzian propone di utilizzare le funivie come alternativa alle strade congestionate dal traffico e prevede lo studio di diversi progetti in questo senso come ad esempio una funivia che colleghi il centro di Bolzano con Appiano, Caldaro e Termeno. Un'altra mozione approvata è stata presentata dai Freyheitlichen e riguarda la linea ferroviaria Merano-Bolzano. Si chiede uno studio di fattibilità ed un calcolo dei costi per il raddoppio della linea ferroviaria. La terza mozione approvata presentata da Fratelli d'Italia riguarda la promozione della produzione alimentare locale attraverso campagne di sensibilizzazione per il consumo di carne a chilometro zero. Il secondo obiettivo della mozione è quello di richiamare l'attenzione sui rischi degli alimenti prodotti in laboratorio. È stata sospesa invece la mozione presentata dal Timca che prevedeva la messa sotto tutela del gruppo del Sassolungo e del Plan de Confine. Poco tempo fa è stato istituito un gruppo di lavoro a livello comunale sullo stesso tema e chi ha presentato la mozione si è detto d'accordo di sospenderla fino a settembre per poter valutare gli esiti dell'attività di questo gruppo di lavoro. Approvato invece in questa sessione di lavoro il bilancio di previsione del Consiglio della provincia autonoma di Bolzano per gli anni finanziari 2024, 2025 e 2026 del relativo piano degli indicatori e del documento unico di programmazione. Su proposta del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia è stata inoltre designata Judith Savio come nuovo membro supplente della commissione elettorale circondariale sotto commissione di Silandro. La presentazione della relazione finale della commissione speciale per gli stipendi e le pensioni dei rappresentanti politici è stata accompagnata da un'animata discussione.